La linea ferroviaria tra Milano e Cremona, tanto per cambiare verrebbe da dire, è stata paralizzata per tutta la mattinata a causa del guasto al sistema di sicurezza di un treno delle 6 di mattina che ha portato al blocco anche di tutti gli altri convogli. Tutti i treni, sia per Milano che per Cremona, sono rimasti fermi e ai pendolari è toccato un trasbordo tra le ortiche a crema e 45 minuti di ritardo per i più fortunati. Per altri il ritardo è salito anche a un'ora. Vita da pendolari, sempre più in balia, di un sistema che non funziona. Grazie a tutti.